Era dell'Apostolo Giacomo, è piccolina, sono cinque pagine, non di più. Lui dice che l'uomo e la donna, l'uomo e la donna, che dominano la vita, sono perfetti. Ma è tanto difficile dominare la lingua, perché sempre ci viene questa tentazione di distruggere, insultare, chiacchierare, fare dei terroristi. C'è una parola, abbiamo parlato tanto di violenza, ma io vorrei parlare di un atteggiamento contrario. La mitezza, essere mite.